Oh la la, turiste tedesche! Vittorio! Cameriere, cameriere, vittorio! Desidera, madame? Vogliamo tipico piatto italiano, ya? Consiglierei funiculì, funiculà! Ya! Con cacabelle e pommarola in coppa! Ya! Cameriere italiani, come essere fascinosi, ya? Cameriere! Servito funiculì, funiculà! E voilà! E là! Ancora un po' di sugo? Ya, ya! Le cacabelle sono gustosissime, autentica ricetta napoletana! Mmm! Mmm! Poco, poco, Bitte! Non è di suo gusto, signora? Vuole un altro piatto? Nein, nein! Questo piacere è moltissimo, ma troppo condimento, sa? Io devo dimagrire! Mangiate con Premium Saiva per mangiare Snello! Mangiare! Per avere un corpo da Premium, mangiate Snello con Premium Saiva, i nuovissimi crackers da pasto! Buoni, buoni da matti! Buoni con tutti i piatti! La scatola è tutta piena! Ci sono tanti, tanti crackers! Anche per questo i Premium Saiva sono più convenienti! Non rinunciate ai piatti preferiti! Alleggerite il pasto con Premium Saiva per un corpo da Premium! Chatillon presenta Festa al Castello Con il quartetto Cetra Allora, siete tutti invitati alla festa, d'accordo? Sarà una festa portoghese! Tutti in Portogallo! Stasera in Portogallo noi tutti ci troviamo Il Porto lo beviamo e Gallo lo mangiamo Le porte sono aperte ma resteranno fuori Quei tali sbaffatori che tutti conosciamo Loro non possono entrare! Non hanno il biglietto! Cosa dice? Siamo Portoghesi! Entriamo senza pagare in ogni cinema Noi siamo i Portoghesi a sbafo noi viaggiam In treno, in auto, in tram In pullman, in pallon Persino qui veniamo gratis Che portoghesi che siamo! Cristoforo Colombo! Io sono quel Colombo che è nato genovese Mandato a quel paese e viveva in Portogal Deriso a Salamanca La Spagna mi ha aiutato da uomo navigato Scopersi lo zio Sam La lavanderina portoghese Son la bella lavanderina Tutto il giorno a pettegolar I panni sporchi che sto lavando A tutti quanti io mostrerò I capricci di cerche vive Ed il grad della nazional Tutto il giorno lavando i panni Alla gente racconterò Todos al buffet Io voglio il Portogallo Arrosso con patate A me quattro cassate Un tosto e tre succhi Due uova al tigamino Con un bicchier di vino Però sei genuino se non lo lascio lì Spumante e pasticcini Tardine e bocconcini E poi bicarbonato Perché? Se non mi resta qui Chi è? Chatillon Con una meraviglia del suo castello Cos'è? Elion Che fibra C'est si bon Un filo Che filo E che biancheria Elion C'est si bon Un filo Che filo E che calze Elion E per la vostra casa Tende di Elion Si lavano e non si stirano Valentino e Valentina In sogno d'amore Ilio 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 L Calle Ilio Grazie a tutti. 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 Diamoci del du, du, diamoci del du. Visto? Come tutto diventa più facile. E per le grandi occasioni, la prestigiosa confezione regalo, du du capriccio. Du 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 du. Du fur, sempre qualcosa di nuovo. Le tre gemelle image presentano... La vispa Teresa. La vispa Teresa. La visita. 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 Image per loro. Per me che son piccina. Per me che son grandina. Anche per me già signorina. Image per loro. Che gioia. Ora anche per la mia bambina c'è la bella qualità della mia biancheria. La visita. E come piace a me, ad un prezzo giusto. Mamma me la compri la image per me? La prova del nove della vostra eleganza intima è image.